È il momento di personalizzare il mio personaggio preferito, il mio amico pruscione ladro Sly Cooper. Gabri Costa non vede l'ora di dirvelo, a tutti i costi, però statemi a sentire tutti quanti. Ora vi spiego come fare. Dovete selezionare un costume. Quando è tutto blu è il re dei ladri, ma potete scegliere anche il suo travestimento arabo. Ma questo travestimento arabo mi fa ricordare il quinto episodio di Sly Cooper ladri nel tempo, nell'antica rabbia. Ma il travestimento d'arciere e detenuto sono su PlayStation Store e dovete acquistarli per forza. Ma il travestimento d'arciere e detenuto erano nel quarto e nel secondo episodio di Sly Cooper ladri nel tempo, in Inghilterra medievale e nel Far West. Ora ci sono tutte le provocazioni di Sly Cooper. Dice, mi annoi, dietro alle ombre meglio stare allerta. Ancora a caccia di ombre? Sono il re dei ladri, cosa ti aspettavi? Ora sapete com'è fatto il suo ingresso. Felice di fare un salto. Ritorno al futuro di soppiatto. Felice di venire. Mi sono fatto strada. Ora la sua uscita. Andrà meglio la prossima volta. Grazie del ballo. Vivo per questo. Murray approverebbe. E ora vi farò ricordare la sua musica di vittoria. Missione compiuta e agile campione. Se questa video recensione vi è piaciuta mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. E altri video vi aspettano. Un ciao da Gabriosta. Arrivederci. Non mi stancherò a dirvelo. Grazie. Grazie. Grazie.